Indian Wills, esordio amaro per Mannarino vince in due set. Indian Wills, Stati Uniti, finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo BNP Paribas Open. Primo ATP Masters 1000 stagionale, in corso su cemento di Indian Wills, in California. Il 21enne di Carrara, numero 19 del ranking ATP, è stato eliminato dal francese Adrian Mannarino, 68 ATP, in due set con un W6A4 dopo poco più di due ore di gioco. Il 34enne francese sfiderà al secondo turno un altro azzurro, Yannick Sinner, che aveva estromesso dal main draw il francese Gasquet.